E' stata una seduta animata, quella del Consiglio Comunale di Favara, svoltasi ieri sera ad Aula Falcone Borsellino. A tenere banco è stata la discussione sul Palagiglia ed i relativi lavori di riparazione temporanea del telo di copertura effettuati dalla società cooperativa Il Seistante, in cambio dell'autorizzazione a poter svolgere in contrata a Pioppo il concerto dei Poo in programma per il prossimo 8 dicembre. Ricordiamo che lo scorso 30 novembre la maggioranza in Consiglio aveva bocciato una variazione di bilancio di circa 173.000 euro per la manutenzione degli edifici pubblici che comprendeva la sistemazione del Palazzetto dello Sport. L'intervento di sistemazione al Palagiglia del partner privato è stato accolto positivamente dalla maggioranza dei consiglieri comunali e questi ultimi però hanno chiesto al Sindaco i dettagli dell'operazione. Secondo quanto è emerso dalla discussione, i lavori avrebbero avuto un costo nettamente inferiore alla somma prevista in precedenza dall'amministrazione comunale nella variazione del 30 novembre. La questione sollevata dal consigliere del PDL Antonio Fallea ha posto una serie di interrogativi a cui il Sindaco ha risposto come ad esempio la stipula di una polizia assicurativa per eventuali danni che potrebbero verificarsi nella struttura in occasione del concerto e i relativi dettagli economici dell'operazione. Richiesta di chiarimenti proposta anche dai consiglieri Palumbo, Grova, Bennardo e Castronovo. Il primo cittadino non ha saputo fornire in aula i costi affrontati dalla Società per la riparazione del tetto che si dovrebbero aggirare a pochi migliaia di euro. Lo stesso Manganella però ha accolto positivamente l'interessamento della cooperativa e se stante dei fratelli Bellavia. In periodi di crisi economica, Manganella ha poi annunciato come, in considerazione degli elevati costi di gestione dell'intero impianto sportivo di contrada Pioppo, in futuro sarà predisposto un apposito bando di gara per affidare ai privati la gestione della piscina e del palazzetto. Per abbattere i costi di gestione, il consigliere Castronovo ha proposto all'amministrazione di valutare il project financing discusso in consiglio nella passata legislatura che prevede l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici in modo da rendere l'impianto energicamente autonomo. Botta e risposta tra Manganella e Fallea. I due si sono più volte dibattuti sulla questione. Gli interventi sul Palagiglia, infatti, hanno anche offerto ampi spunti sul dibattito politico locale. Al momento di affrontare il punto sulla commissione consigliare al centro storico, la seduta è caduta per mancanza di numero legale. I lavori riprendono questo pomeriggio alle ore 18, proprio quando a Favara è atteso l'arrivo del leader del Movimento 5 Stelle, Grillo.